Voglio presentare la regina di tutti i sud del mondo, Teresa De Sio, con noi! Allora, riprendiamo con una preghiera un po' di cazzosa e il Satoshi Un'altra, riprendiamo con una preghiera un po' di cazzosa e poi si torna a nascere Fammi nascere libero come un uccello del cielo Fammi nascere libero come un pesce del mare Un'altra, riprendiamo con una preghiera un po' di cazzosa Fammi nascere libero come un pesce del mare Un'altra, riprendiamo con una preghiera un po' di cazzosa Un'altra, riprendiamo con una preghiera un po' di cazzosa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti